Ed ecco, trentesima domenica del tempo ordinario, ci ritroviamo insieme a padre Ernesto della Corte. Buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana, ben ritrovati. Ben ritrovato a te. La scorsa settimana c'è sfuggito di ricordarlo, era la giornata missionaria mondiale e tutta la Chiesa invita a riscoprire questa sua vocazione missionaria. Anche a proposito del sinodo c'è la missione della famiglia nella Chiesa che si riscopre. Eh beh, direi che domenica scorsa ci siamo lasciati prendere da quel grande monito di Gesù. Meno male che oggi, nella trentesima domenica che viviamo, siamo arrivati dopo tante settimane. Finalmente è una pagina molto positiva. Perché sembra strano, cara Anna Maria, cari amici e amiche che ci seguite, ma oggi il vero protagonista è un cieco. Bar Timeo, Bar Timeo, che in aramaico significa il figlio di Timeo. Siamo a Gerico, finalmente sotto il deserto di Giuda, prima di attraversarlo poi si sale verso Gerusalemme. Finalmente da Cesarea di Filippo, quindi dal capitolo 8 fino adesso, alla fine del capitolo 10, abbiamo avuto reazioni sempre negative da parte dei discepoli. Oggi invece Marco ci presenta Bar Timeo come il modello di fede, un cieco che diventa poi un uomo sanato, ma soprattutto un uomo convertito, chiamato dalla grazia di Dio. E notate che Marco non è che pone l'accento sulla psicologia della fede, ma vuole insistere su questa proclamazione. Gesù, figlio di Davide, figlio di Davide, grida più forte anche se la gente lo mette a tacere. Vedete, chi crede testimonia la propria fede, la grida, la vive e suscita certamente contraddizione per chi viene anche combattuto. Gesù diceva, vi sarà dato il cento, però insieme a persecuzione. Chi vive davvero il Vangelo non riceve spesso gli applausi. Abbiamo visto qualche settimana fa la santificazione di Romero, di Paolo VI, che sono stati diffamati anche dopo la morte. Succede così anche al nostro carissimo Papa Francesco, a cui va sempre la nostra obbedienza e il nostro affetto. Ecco, Gesù a Gerico, prima di salire verso Gerusalemme, incontra questo uomo, Bar Timeo, il quale rispetto a tutti gli altri che sono in movimento, costretto dalla sua siccità a stare, direi, sul bordo della strada. Il testo molto bello dice, stava lungo la via. Alla fine noi lo vediamo sulla via. La traduzione del testo italiano non è proprio fedele al testo greco. Quindi stava lungo la via perché elemosinava e c'è, sta con le mani tese ad aspettare l'obbolo della gente. E poi non riesce a vedere. Quando Gesù poi lo incontra, quest'uomo non solo riceve la vista, riceve la fede. Balza in piedi, si toglie il mantello che è l'abito vecchio, indica l'uomo vecchio, ed è sulla via. Mentre i discepoli sono lungo la via dietro Gesù, ma in realtà non accolgono quella via, quest'uomo invece l'accoglie. Quest'uomo ha fatto sua la logica di Gesù. C'è una certa ironia nel rimarcare, da parte di Marco, l'evangelista, che Bar Timeo, pur cieco, ha maturato in sé la coscienza dell'identità profonda di Gesù. Ha solo sentito parlare di lui, sente che sta passando, ma lui usa subito quell'espressione Gesù, figlio di Davide, dove figlio di Davide è più importante del nome Gesù, perché figlio di Davide significa Messia. Ecco, la fede di Bar Timeo si tematizza in questo modo, viene fuori, e riconosce in colui che è chiamato il maestro, il Nazareno, riconosce il Messia. Non solo, questa fede gridata diventa preghiera, perché è preghiera pressante, perseverante, nonostante venga ostacolato. Quando una fede è autentica, genera la preghiera. Quando noi ci lamentiamo che la preghiera è scarna, che la preghiera è scarsa anche, è perché non c'è una vera fede. È la fede, è la relazione che genera la preghiera, perché la fede rende liberi di quella libertà espressa dal gesto di togliersi, gettare via il mantello, che poteva forse in quel momento essere un impedimento nella corsa. Qual è la logica che c'è sotto? Di una fede che è liberatrice, di un dialogo che tra Gesù e Bar Timeo è rispettoso, è intimo, che arriva addirittura all'intimità, perché le tre volte è Gesù figlio di Davide, poi lo chiama figlio di Davide, la terza volta lo chiama Rabboni, cioè maestro mio caro, una sorta di attribuzione affettiva, un titolo affettivo. È entrato già in intimità Bar Timeo con Gesù e Gesù si ferma, ritto in piedi, e proprio mentre viene ostacolato Bar Timeo viene chiamato. Fatelo venire, che bella sorpresa. Gesù si ferma e tutto si ferma per un istante. È come se questo film all'improvviso fosse messo un attimo in pausa. Resta tutto fermo, perché il racconto sta per cambiare. Che bella questa scena descritta dal Vangelo, no? Si trattiene quasi il fiato. Il vento cambia direzione. La folla che prima lo ostacolava, ora addirittura chiamatelo. Ti sta chiamando, eh? Notate com'è cambiato. Quel Gesù che si ferma, che mette al centro l'uomo che lo ha pregato. Quel Gesù che cambia anche con le sue azioni le azioni degli altri. Senza dubbio la folla separava Gesù dal cieco, ora la folla lo chiama. Vai, ti sta chiamando. Gesù ti sta chiamando, vai di vicino. Come è diventata docile questa folla? Dobbiamo guardarla. Notate, c'è questo bellissimo calore che dal cuore di Gesù emana. E la folla, in un certo senso, sente questo cambiamento operato da Gesù. E Bartimeo, gettato via il mantello, che poi è segno della sua vita passata, balza in piedi e lo chiama Rabunì, maestro mio caro. Cosa vuoi che io faccia per te? Dice Gesù. Gesù sa bene che cosa vuole Bartimeo, ma glielo chiede per fargli uscire fuori nell'abbondanza del cuore il suo bisogno. Maestro, se vuoi, ridammi la vista. E Gesù cosa gli dice? Ritorna, iupaghe. La tua fede ti ha già salvato. Puoi andare. Vedete, Gesù rimanda sempre alla vita. C'è quel testo in greco, iupaghe, che nella nostra Bibbia va. Però è brutta questa traduzione, va. Ma ritorna, ritorna alla tua vita. Non solo hai acquistato la vista, ma soprattutto hai acquistato fede. È sulla via, dice l'ultimo versetto. Quel cammino di fede che i discepoli ufficiali rifiutano, ora è anche la via per Bartimeo. E mentre i discepoli sono stati chiamati, Bartimeo diventa discepolo dopo questo incontro con Gesù. E qui c'è una profonda ironia. I discepoli ufficiali seguono con i piedi Gesù, ma col cuore e con la mente non ci sono, non condividono. Bartimeo, che è un povero infermo, non solo riceve la vista, ma diventa discepolo. Perché qui Marco fa un'operazione meravigliosa. Dice così, chi è discepolo, quindi chiamato, non sempre ha fede, ma chi ha fede in Gesù è sempre un discepolo. Quindi è la fede, è la relazione con Gesù che ci fa discepolo. E Marco lo annota con molta chiarezza, lo sottolinea proprio. Ecco perché l'episodio di Bartimeo registra una verità che attraversa poi tutto il Vangelo di Marco. Ed è scandaloso questo dato. Solo chi ha fede è il discepolo. E i discepoli che ha chiamato Gesù? Abbiamo visto in queste settimane, non accolgono, non accettano, discutono, litigano tra di loro, fanno fatica. Solo dopo la Pasqua, capiranno. Ancora una volta vedete i personaggi che noi chiamiamo minori, come la socia di Pietro, la donna cananea Sirofenicio, oggi Bartimeo, il cieco di cui non sappiamo il nome, Abezaida. Ecco, questi personaggi sono fedeli alla logica della fede. E la fede ti aiuta a seguire Gesù. Senza dubbio è interessante stare con Gesù, seguire i suoi passi. L'aveva detto Gesù all'inizio, no? Se uno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Ecco, Bartimeo è dietro Gesù, lo segue. Ciò che conta, dice il Vangelo di questa domenica, è restare uniti a Gesù. È lui che ci indica la strada, anzi, lui è la via che noi dobbiamo seguire. E allora, da un certo punto di vista, questo racconto finale di questa grande sezione che va da Cesare di Filippo fino all'ingresso a Gerusalemme, noi vediamo che questi personaggi cosiddetti minori, dopo la confessione messianica fatta da Pietro, sono gli unici che accolgono la logica praticata da Gesù. E Gesù accetta a questa confessione di Bartimeo. E prima di entrare a Gerusalemme ci mette questo ex cieco, questo ammalato, questo diseredato, questo piccolo del Vangelo, ce lo mette davanti come modello. La fede del cieco, la sua perseveranza, il suo cercare Gesù a tutti i costi, ci fa capire che è questo che ci salva. Chi ha fede, pur non sapendolo, è già discepolo. Ed è bello anche sottolineare che prima che Gesù entri come Messia a Gerusalemme, lo ha riconosciuto un povero, uno di quegli Hanawim, che si dice nell'Antico Testamento. Queste persone immarginate, piccole, povere, lo riconosce come il vero Messia, mentre le autorità religiose di Gerusalemme non solo non lo riconosceranno, ma addirittura lo condanneranno. I piccoli hanno capito il Vangelo, ieri come oggi, e noi dobbiamo diventare come loro. Quindi non il potere come la domenica scorsa, ma quella piccolezza che indica l'impotenza. Sì, chi è impotente è più potente dei potenti, perché come diceva Paolo, tutto posso in quello che mi dà forza. Insomma, la fede di un incontro che si trasforma in amore. Certo, e si trasforma in un cambiamento di vita totale, perché quest'uomo passa da una vita di elemosina a una vita attiva. Era passivo all'inizio, dopo l'incontro con Gesù, non solo ha riavuto la vista, ma è attivo, è fedele, ha fede, è cambiata la sua vita. Ora è dietro Gesù. Ciò che conta è andare dietro di lui. Il nostro San Francesco richiamava nella regola non bollata un passo della prima lettera di Pietro. Sequi vestigio a Eios, che certamente Padre Pio conosceva benissimo. Segui le sue orme. Che significa seguire le orme di Gesù? Avere fede, cioè relazione con lui, perché in lui tutto è possibile. Anche la nostra debolezza diventa potenza, perché non è potenza umana, non è potenza di dominio, ma è potenza d'amore. Anche il Vangelo di oggi, nonostante le cecità, ci illumina. Grazie Padre Ernesto. Bella, molto bella questa tua espressione. Nonostante le cecità, ci illumina. Perché stranamente, Anna Maria, il Vangelo ci insegna che non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere. E i discepoli non vogliono vedere. E anche noi tante volte non vogliamo vedere. Allora, chiudiamo gli occhi del volto e apriamo gli occhi della fede, perché quella ci fa vedere lontano. Bellissimo. Grazie di cuore, Padre Ernesto. A nome di tutti. Buona Pasqua della settimana anche a voi. Shalom. Shalom. Grazie a tutti.